Sono partite le attività di Polimeda Lab, nuovo polo sanitario di cellule in provincia di Caserta. La struttura vuole essere un polo sanitario di riferimento per il territorio orientato alla fornitura di servizi d'eccellenza grazie alla collaborazione con i migliori specialisti del settore medico. Il taglio del nastro è stato preceduto dall'incontro dibattito intitolato Prevenzione e Promozione della Salute il nuovo concept della struttura sanitaria privata presso l'istituto Serao Fermi di Cellule alla presenza delle autorità locali, del sindaco Cristina Compasso e di alcuni medici specialisti sono state presentate le prime due campagne di prevenzione rivolte alla popolazione della provincia di Caserta. Siamo felici ed orgogliosi di questa iniziativa e di questa inaugurazione. Finalmente la sanità e la medicina che si avvicina al territorio, agli utenti piuttosto che gli utenti correre dietro i medici e la medicina in altre parti della regione Campania e altrove anche. Siamo qui a Cellule per l'apertura del nostro nuovo polispecialistico dove avremo la possibilità di offrire 20 branche a visita anche con la possibilità dell'utilizzo di nuove macchine all'avanguardia appunto perché il nostro obiettivo è quello di riavvicinare le persone alla sanità con diverse campagne di prevenzione gratuite o anche a prezzo agevolato con cadenza mensile.